Gli anziani sono una ricchezza che non si può ignorare, nonostante la nostra sia una società programmata sull'efficienza. La Catechesi dell'Udinanza Generale di Papa Francesco in Piazza San Pietro è dedicata ai nonni, spesso considerati una zavorra e per questo scartati. C'è qualcosa di vile, afferma in questa suefazione la cultura dello scarto. Si rimuove la debolezza, la vulnerabilità, ma chi abbandona l'anziano, rimarca il Papa, fa peccato mortale. Compito di una Chiesa che non si conforma alla mentalità del tempo è quello di risvegliare il senso collettivo di gratitudine, apprezzamento e ospitalità. L'anziano, aggiunge Francesco, non è un alieno, ma siamo noi. Pertanto una società senza prossimità, senza gratuità, è perversa. Dove non c'è onore per gli anziani, conclude, non c'è futuro per i giovani. In una civiltà c'è attenzione all'anziano? C'è posto per l'anziano? Questa civiltà andrà avanti? Perché sa rispettare la saggezza, la sapienza degli anziani. In una civiltà non c'è posto per gli anziani? Sono scartati perché creano problemi? Perché questa società porta con sé il virus della morte. non c'è il virus della vita. Questa vivirà, nella civiltà non c'è più solo la vaccinazione. Grazie a tutti.